Ciao, bentornati nel mio canale, tipo non vedete un video da secoli dei secoli Un'altra reaction di BTS, siamo qui per fare un'altra reaction di BTS Trano minuti e vedete se faccio un video Gente ne ha finito tanto la mia scuola Perché sono in cinquantotto! Perché? Andate nelle behind the scenes La mia scuola, dite il vostro nome almeno Ciao, sono Chiara Ciao, sono Giorgia Sarina Quindi prepariamoci alla nostra morte Oh Gioia, la cazzo! Ammigio! E' sicuro Oh Gioia, la cazzo! Oh Gioia, la cazzo! Oh Gioia, la cazzo! Oh A No, 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 no Non, 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 non Oh man! Ahahahah Oh Ahahahah Oh Ahah Oh Oh Ciao Sì, non è vero. Oh mio Dio, c'è un video trash, non si capisce quello che è a caso. Non si capisce quello che facciano dall'inizio alla fine, indossano i vestiti, allora, quittate i BTS, io ve lo ordino, quittateli, perché questo video non è come gli altri. No, allora no, no, io anche quella cazzo di maria di penca che mi gritterà, perché? Fietà, 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 fietà. Allora, la vera domanda, che cazzo ci fa con lo squallio? No, allora, allora, allora. Allora, sembra che siano Dubai, Dubai, un posto indiano vestiti da piccoli esploratori. Sì, ma si sono fatti i diacidi. Oh Dio. Sì, questo qua ha ragione. Ma, rega, allora, ditemi voi, ditemi... Non ero friato, quel pazzoide! Allora, quittate BTS, perché i BTS non ci vogliono bene, questa trashata io non la rivedrò mai più. Io odio, io odio BTS e... ...tanto... ...dicemi che attraverso le persone con le mani così, cioè, è un cazzo! Ebbene, vabbè, allora... ...che mi hanno dato sia la Jungkook che la Jungkook in una pericela... ...dicela... 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 ...dicela...